domani al teatro della fortuna ore 17 30 una grande presentazione dell'arrivo del giro di italia fano che sarà 16 maggio 2024 un periodo che abbiamo scelto veramente molto favorevole per la città un periodo nel quale la città vuol promuovere la vita all'aria aperta l'andare in bici l'andare a piedi l'usare anche il mare per fare attività veramente all'aria aperta come il surfer kitesurf insomma un territorio che può veramente volare alto anche nel periodo primaverile tramite le biciclette le passeggiate a piedi e sarà una grande occasione per avere grandi campioni a parte il direttore del giro anche davide cassani anche vincenzo nibali grande campione sarà un'occasione per lavorare veramente tutti insieme associazioni istituzioni enti diversi ad un momento importante per la nostra città e alla promozione dell'outdoor dal 1962 per la quarta volta il giro d'italia fa tappa fano la tappa di fano sarà una delle più lunghe e articolate perché siamo circa sui 200 chilometri con 200 ciclisti in sia in partenza che in arrivo e sicuramente questa illustrazione la faremo al meglio con tre ospiti d'onore mauro vegni che il direttore del giro d'italia avremo vincenzo nibali che è uno dei sette corridori più forti al mondo e il giornalista cassani che ci aiuterà appunto a raccontare tutte quelle che sono le emozioni del giro abbiamo una tappa molto ambiziosa su fano veramente che ci farà restare col fiato sospeso non solo noi ma anche i corridori ad aprire questa bella iniziativa ci sarà il coro tra le note della scuola fabio tombari di bellocchi con i bambini che animeranno con i due inni d'italia ed europa proprio questa per celebrare questa partenza importantissima per la nostra città il 16 maggio il giro d'italia arriverà a fano e proprio per rappresentare questa tappa del giro d'italia ci vediamo domani al teatro della fortuna a fano alle diciassette trenta chi ci sarà mauro vegni direttore del giro e vincenzo nibali che lui di giri d'italia ne ha vintidue alle diciassette trenta teatro della fortuna a fano ci vediamo domani